Marina di Pescara si è chiusa la stagione estiva da pochi giorni. Vogliamo fare, Presidente, un bilancio. Come è andata quest'estate? Guardi, il discorso del Marina è un discorso a seconda di come lei la guarda può essere soddisfacente o insoddisfacente. Per quello che ci riguarda noi siamo soddisfatti, per un motivo molto semplice. La nautica credo sia uno dei settori più colpiti dalla crisi di questi anni. Non è un caso che cantieri come Pershing, come Ferretti, sto parlando delle Roll Royce del mare, abbiano avuto serissimi problemi. Addirittura qualcuno ha addirittura chiuso. Diciamo che il Marina di Pescara da un punto di vista dell'attrattività e statica ha avuto numeri importantissimi. Anche i nomi che ci sono stati, J-AX e via dicendo, hanno portato un grande numero di visitatori. Dal punto di vista proprio della nautica reggiamo più o meno i numeri dell'anno scorso. Quindi vuol dire che tutto sommato la crisi la stiamo parando. C'è qualche piccolo segnale di ripresa, però le dico francamente, parlare di nautica è come parlare di edilizia in questo momento. Stiamo parlando di settori che hanno una grandissima sofferenza. Ci sta salvando sulla nautica il mercato straniero, il mercato straniero in particolare, quello dei nuovi paesi, dei nuovi ricchi, che stanno assorbendo una parte della produzione. Ma è chiaro che infrastrutture come il Marina di Pescara in questo momento devono reggere questa crisi. Le previsioni ci parlano a 3-4 anni che si ricomincerà a vedere un po' di movimento. Grazie.